Se noi stiamo parlando di integrità di fuori sistema, noi stiamo a corregire lo che abbiamo avuto durante anni, durante le decadze. La decisione reale è una cosa che si tratta di integrità e, a la volta, creare opportunità per tutti i cittadini della nostra comunità. Mi chiedo elaborare un po' diàlogo con noi stiamo con i representanti del gruppo di taxisti per esempio che il popolo e la comunità di Aruba per comprendere che ci sono le ponenze con le attrezze per l'alanzo. Per quanto riguarda il gruppo di taxisti, per ricche per l'unione, non chiede con il derecho per traspasare le taxe per gli uomini e gli di non di non-confianza, quindi l'extended famiglia, a presentare un articolo che si tratta di un permesso di non-evoluzione. E questo è che non è vero. Un'altra sugerenza è che non ha presentato per l'anqueda con il permesso, è che non muro e ha fatto uso di un rupto chauffe. Attualmente, il taxista ha 465 taxis per l'alanzo, e ha un totale di 195 rupto chauffe. Un rupto chauffe che non può arrivare a un'alanzo, ma si può portare un'alanzo per l'alanzo per l'alanzo per l'alanzo per l'alanzo per l'alanzo. Per essere rolledare le tucking. Cosi che facevano il nostro pa decidente arrivare a un'alanzo per l'alanzo per l'alanzo per l'alanzo. baldi e il taxista non... Ora non ho portato più, un'altra legge il rupo chauffe, ora non ho portato più, non lo voglio fare il rupo chauffe, si pagano, e se è il pincio che non ha merecedo, se il rupo chauffe lo trage tutto il giorno, e se non lo considera come un pincio. E sai che non è giusto, non è giusto per un rupo chauffe, perché non è giusto per un rupo chauffe, non è giusto per un rupo chauffe. Non ha menzionato la qualità male di diesel, e sai che c'è qualcosa che mi ha atteggiato con il ministro, e ayer, durante il ministro, mi porto a 13 e sai che c'è anche per l'alante. Falta di controllo, e sai che c'è qualcosa che mi è full di accordo con noi. Per questo motivo, si ha deciso per percorrere, per avere più controllo. Quindi il MBI non si può imporre il DTP per avere il controllo del nostro manejo. E sai che c'è qualcosa che è taxista, ma è a 13 e per l'alante, per la comunità, per l'alante, ma non si può imporre il MBI, lo che ci ha accettato, ci ha dato 5, 12 holders addicionali, con le persone che avevano che avevano l'alante del Overtor Hates Pool, che avevano l'alante del DTP, e ora ci hanno lavorato la tarea come 12 holders, per mantenere il controllo per l'alante del transporte pubblico, e per l'alante, per l'alante del ministro del transporte. Grazie.